Dieci anni e qualche giorno dalla splendida medaglia d'oro in staffetta a Torino, Giorgio Vicenta e Cristian Zorzi, parliamo però perché qua alla Viota e Bondone e com'è andata questa gara? Una bella gara, una 30 molto dura, un livello molto alto, tutti i ragazzi giovani oggi me l'hanno fatta vedere, infatti ho perso la volata a quarto posto ma va bene così Il tracciato com'era? Molto bello, tutto ondulato su e giù in continuo, ripeto ritmo alto, neve difficile oggi, è stata veramente dura ma molto bello qui a Viota e bisogna investire su questo posto che merita Cristian la tua prova? Innanzitutto ha beato a Giorgio che gliel'hanno fatta vedere, la mia prova sicuramente faticosa perché quest'anno sono andato solo 4-5 volte con gli sci da fondo e non è che abbia fatto queste gran cose, però è stato sempre bello poter ripercorrere i percorsi qua alle Viote del Bondone perché è una pista veramente bellissima, poi adesso che è nevato tutto quanto è spettacolare, abbiamo optato tutti e due di venire qua oggi alle Viote per stare insieme a chi ci ha fatto il tifo negli anni e ci ha aiutato a vincere quello che abbiamo vinto, anche se oggi eravamo invitati a Torino per la celebrazione dell'anniversario della medaglia olimpica. Meglio così dai, ci siamo divertiti, ho bruciato un po' di calorie e adesso mi rifarò con qualche imbis. Dieci anni, sembra ieri, che ricordo avete di quella splendida giornata e quegli splendida le Olimpiadi? È vero, sembra ieri, però ci guardiamo un po' intorno e vediamo gente che non riconosciamo più perché sono troppo giovani, Giorgio mette le rughe, io sto facendo qualche lifting quindi riesco a mantenermi, comunque sono passati velocemente, veramente velocemente, ricordi bellissimi, è sempre bello poter ricordare un'Olimpiadi è vinta in casa specialmente e quindi niente, abbiamo fatto la storia e è bello ricordarla ogni tanto. Adesso guardiamo ai giovani del futuro, il tuo erede può essere Federico Pellegrino, anzi ti ha già superato. Sì, no, Federico Pellegrino ha delle qualità importanti per quanto riguarda le sprint, deve ancora migliorarsi per quanto riguarda le distance, per essere proprio completo dovrà lavorare ancora un pochettino, però lui è molto determinato, non lascia niente al caso e credo che in futuro ci darà anche soddisfazione nelle distance. Come potrebbe essere la futura staffetta da podio? Ma io credo che sarà Valbusa di Centa, Piller d'Orbi, sì, Master però, sì, andiamo a fare il Master dai che è ora, no, adesso i nomi si stanno delineando piano piano, sicuramente punti di appoggio come De Fabiani e Pellegrino ci sono, anche se Pellegrino ancora, come ho detto prima, deve ancora migliorarsi perché al momento può andare bene in classico nelle prime frazioni. Gli altri devono ancora lavorare un pochettino, però avendo due perni del genere sicuramente riusciremo a, che i netti e anche tutto lo staff tecnico riuscirà a tirare su un buon team e ritornare ai tempi d'oro. Sì, penso di sì. Giorgio, il tuo ricordo di quella staffetta è anche poi della 50? Ma, bellissimo ricordo e so che Cristian è partito con questi pochi secondi di vantaggio e vi hanno detto, ah, lo riprenderanno subito, invece ci ha provato, ci ha creduto, avevano buoni materiali e è andato via, eravamo preoccupati che calasse, invece ha gestito benissimo la gara e ha avuto anche il tempo di prendere la bandiera, è veramente uno spettacolo e già a metà gara pensavamo già di farcela, è stato veramente un qualcosa di speciale vincere in casa a Torino e niente, poi ho il ricordo anche dal 50, ho un sogno nel cassetto, mi ha ripagato magari di tanti podi mancati o secondi posti, ha avvalso veramente tanto. C'era un bel gruppo anche? Ma sì, noi siamo particolari, ti dico solo che qualche volta qualche psicologo è venuto con noi a tavola e poi ci ha detto, voi non avete bisogno di psicologhi ragazzi, no, è veramente un gruppo speciale, Valbusa e Zorro hanno quel carisma particolare, Pietro ancora anche lui ha qualcosa di speciale, io magari sono quello più tranquillo, però quando c'è da morde, tirare fuori le unghie, le tiro fuori anch'io e quindi ci compensiamo vicenda. Si può dire che De Fabiani potrebbe essere il tuo erede? Ma io lo spero, soprattutto in un'Olimpiade che sia il mio erede, lui ha una grande dote che è quella comunque di essere veloce dopo tanti chilometri e quello può fare la differenza per fare il risultato finale.